Se oggi, diciamo, io so bene quanto il gruppo di ministranti valga per me e per noi, quanto la mia vita e la mia fede siano cambiate grazie al gruppo di ministranti. Ad oggi questo mio pensiero c'è la lotta e la talare sulle impresse di noi, se sono una seconda fede, lo dobbiamo a tante persone, ai nostri padrini, ai responsabili che ci sono stati questi anni, però più limiti a una squadra. E con molta semplicità vi tengo a ringraziare, un semplice grazie, ma più sincero possibile dal profondo del mio e del nostro cuore. Grazie per essere guida e grazie per essere padre, per te e per me e per tutti noi. Prego per chi possa essere sempre innamorata del gruppo di ministranti, perché attraverso i dedici possa continuare a incendiare tutti i cuori, incendiare altri anni di giovane, perché la storia di ministranti è una cosa bellissima che deve continuare.